Can we go back? This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over, so we put our hands up When I see you, my heart feels like a sinking stone I know, I need you, I'm not sure if she's coming home Oh, 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 oh Partita che secondo me è molto difficile sicuramente La Sicunale 11 con la voglia di fare punti nelle zone basse della classifica Il Potenzio con la voglia di provare a vincere questa Sicunale 11 perché non ci riusciamo Sonny D'Angelo ne sa qualcosa, anche perché a Lentini l'anno scorso ha fatto un gol di mano, l'ha messo e niente, proveremo a riscattarci, sicuramente proveremo, proveremo, dico proveremo ma il potenza di Raffaele proverà a mettere a tacere un po' di critiche che ci sono state dopo i rieti critiche che non fanno bene perché un conto è giudicare dall'esterno e un conto è starci dentro il potenza e si sa che comunque i uomini di Mister Raffaele e Raffaele stesso come attresì la società fanno sacrifici enormi, quindi sosteniamo la squadra e sicuramente riempiamo lo stadio quando il potenza gioca in casa perché soprattutto la società ha bisogno di vicinanza, quindi adesso lascerò la parola a Paul per il suo commento, sempre Forza Potenza, ci vediamo domani con la reaction Ciao a tutti ragazzi, sono Paul, come vi ha anticipato Lollo vi parlerò, vi farò il mio commento per la partita sicura le onze o potenza allora la partita di domani che si giocherà alle 3 del camionato serie C, giro in C, è una partita molto importante per tutte e due squadre per motivi diversi la sicura le onze ha bisogno di punti per evitare la retrocessione e sperare quindi nei play out o in una miracolosa salvezza diretta mentre per il potenza c'è voglia di riscatto, anche se questa parola diciamo viene usata male secondo me perché comunque il potenza sta facendo un campionato di tutto rispetto dato che gioca fra il quarto e il quinto posto e comunque gioca con squadre come Ternana, Regine e Bari che hanno fatturati e anche giocatori di altissimo livello, superiore ma per le disponibilità economiche al potenza e molti non capiscono e quindi fanno nascere delle piccole incomprensioni e contestazioni che possono solo far innervosire e non far calmare l'ambiente dato che a potenza c'è bisogno solo di una cosa, di calma far andare avanti il progetto di Cagliate e di Raffaele che si sono uniti bene insieme quindi evitare polemiche inutili, tifare solo la squadra e ovviamente non ricevere polemiche per poi non andare allo stadio la domenica quindi bisogna andare sempre a sostenere la squadra quando si può e tifare sempre per gli unici due colori che sono quelli rosso e blu quindi mi aspetto una bella partita domani per far felici tutti anche chi è un po' contestato ci vediamo domani con la reaction, forza potenza!